Per il tabloido.it siamo al Cursal per il concorso del ragazzo più bello d'Italia e ragazza protagonista 2017. Per il tabloido.it siamo al Cursal per il concorso del ragazzo più bello d'Italia e ragazzo più bello d'Italia. Per il concorso del ragazzo più bello d'Italia e ragazzo più bello d'Italia e ragazzo più bello d'Italia. Per il concorso del ragazzo più bello d'Italia e ragazzo più bello d'Italia e ragazzo più bello d'Italia. Per il concorso più bello d'Italia e ragazzo più bello d'Italia e ragazzo più bello d'Italia e ragazzo più bello d'Italia. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.